31 gennaio 2016 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Buongiorno, buongiorno, i clienti che hanno preso un sito extra leggero questi clienti possono portare un piccolo piccolo bagno per essere posizionati sotto il sito e poi prendiamo i clienti che hanno assistito pre-booking o via con i bambini alla fine prendiamo i altri clienti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Siamo nella galleria di Vucano www.mesmerism.info Un chilometro è lungo questo treno e ancora continua www.mesmerism.info Bene Sì Grazie. Siamo al centro di Lugano. Alle 8 di sera non c'è nessuno. Chiediamo quel signore. Signore, vediamo. Ecco fatto. Così, prezioso. Rosa tutta deve bere. Ressorante pizzeria suave. Salute. Pizzeria. 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 Quattro stagioni. Alla romana. Pizzeria. Pizzeria. Grazie. 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 Buongiorno, apriamo colazioncina a questo palazzo. Grazie. Signora, posso avere un caffè espresso? Espresso. Grazie. Grazie. Una piccola cincina. Formaggio. Com'è? Bene. 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 Buon appetito, con i dolci. Bene. se prenderà si 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.